oggi vi presento una casa introvabile e irresistibile a soli 210 mila euro a corte franca andiamo a vederla innanzitutto ci troviamo in una villa singola di circa 150 metri quadrati la prima cosa che voglio mostrarvi è la zona esterna che è di circa 400 metri quadrati con giardino portico elogiato al piano superiore come vedete la zona esterna quindi il giardino è abbastanza grande per poterci posizionare una piccola piscina quella che vi mostro è una casa familiare ed accogliente caratterizzata da delle travi a vista e da una cucina interamente in muratura al piano terra troviamo due camere matrimoniali un bagno e l'accesso ad una caratteristica taverna mentre al piano superiore la camera padronale con un cabine armadio e bagno e l'accesso ad un ora vi mostro la taverna che vi ho anticipato prima ci troviamo in un'abitazione sempre esposta al sole a due passi dai vigneti della francia porta dal lato di video e da tutti i principali servizi come sempre per maggiori informazioni chiamate comprensori impressione grazie a tutti